SIGLA I televisori, i monitor che contengono i power up sono stati sostituiti da pacchetti regalo Non tutti gli schemi hanno dei cambiamenti I pesci mi pare che abbiano il cappellino infatti, abbiamo visto poco fa Ma non ho notato altri cambiamenti significativi A me onestamente non piace molto questa hack Il cambio dei colori molte volte rende la grafica peggiore e confusa Però è un hack natalizia e mi sembrava carino proporvela oggi che è Natale In descrizione trovate il link ad un altro video YouTube Che in descrizione ha il link per scaricare questa modifica di Sonic 2 Questo video non è un long play ma termina alla fine del primo livello Ciao 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 Ciao